Maestro, che bello! Ma questo è il giardino dell'angelo con i baffi! Era un vecchio di qui! Dava da mangiare, e gli uccelli di legno! Tutti ridevano, ma lui era ottimista! E gli uccelli presero il volo! Unieuro ha deciso di cambiare gli elettrodomestici agli italiani! Lavatrici più grandi dentro e intelligenti! Frigoriferi più belli e a bassi consumi! Cucine più sicure! Unieuro valuta il vostro usato fino a 300 euro! Giambi! L'ottimismo è il profumo della vita! L'ottimismo vola! Unieuro e Unieuro City! In 200 città!